Questo è un momento importante per la partecipazione aziendale, perché il Corvalis Award, il primo, coincide con la nascita di Corvalis. La cosa bella è stata fatta venire la partecipazione, è stata la passione con la quale ognuno di voi ha portato a Corvalis questi dati. Pensavo che pochi avrebbero aderito a questa iniziativa, invece in realtà è stata una cosa molto intensa e questo ci ha dato una grande soddisfazione. Anche i nostri clienti sono ansiosi di conoscere chi è stato il vincitore, quali sono stati i migliori progetti e quindi li presenteremo in maniera adeguata. Come abbiamo fatto finora e come diceva Daniele, come abbiamo presentato l'Unicredit per primo, il nostro nuovo piano industriale, andremo a presentare anche queste iniziative che vi riguardano. Terzo posto, terzi classificati, usato in plurale, Alberto Pietro Grande, Manuele Scarsi, Paola Maleman. Nella gestione dei micropagamenti. Secondo posto, dalla Villa, Roberto e Pietro Musella. Il progetto è informaticizzato e il progetto di un'intenzione di un'intenzione di un'intenzione di un'intenzione di un'intenzione di un'intenzione di un'intenzione. Grazie. 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 Grazie.